Ebbene carissimi amici una buona domenica a tutti voi ben ritrovati qui sul mio canale youtube allora andiamo ad analizzare quello che è successo nell'estrazione di sabato 9 di marzo allora parto subito con il mio nuovissimo metodo che vi ho presentato sul mio canale youtube metodo lotto la data dove chiaramente vi avevo consigliato dal calcolo di sabato scorso il 46 ok facendo sempre l'operazione del giorno di data quindi 2 per 2 più 2 per 2 per 4 per 4 più 4 più 4 quindi sempre a doppio so che molti hanno avuto difficoltà con il calcolo ve l'ho spiegato diciamo come si fa e comunque sapete che è un calcolo che man mano che prendete la mano diventa sempre più semplice e da quel calcolo ci dava il 46 come ambata settimanale già era uscita a colpo a Cagliari il 5 marzo ma ci ha pagato una bellissima vincita ancora quindi seconda vincita della settimana 46 a bari in seconda posizione vinta da tantissimi di voi e c'è stato l'ambetto 45 65 sulla ruota di Cagliari pensate che se ha posato il 45 usciva il 46 il 65 era l'unico abbinamento per ambo proprio nel metodo completo quindi attenzione a questo metodo cari amici perché è veramente un qualcosa di rivoluzionario è qualcosa di nuovissimo e veramente ci darà tante soddisfazioni quindi contattatemi via whatsapp sono contento per questo 46 che veramente ve l'ho stra regalato in video vi ho detto 46 baricali alle prime e seconda posizione nonostante era sortito a colpo è risortito di nuovo e ci ha dato l'estratto determinato quindi attenzione a questo metodo potete contattarmi via whatsapp 348 75 47 715 per avere informazioni su come giocare in modalità vincita venuta l'unico ambosecco della settimana sulle ruote di bari Cagliari quindi ci prepariamo per il nuovo ambosecco con il nuovo capogioco che già ve lo regalo è il 72 segnatevelo 72 4 colpi a partire da martedì bari Cagliari in prima e seconda posizione notiamo sempre sulle ruote di bari Cagliari per quanto mi riguarda rimangono fortissime per il 90 dove abbiamo ancora questo 45 che arriva a Cagliari guardate come i numeri si ripetono tra queste due ruote tra le ruote di bari Cagliari è qualcosa di incredibile guardate il 45 prima sortisce a bari il 5 marzo Cagliari ne dà addirittura tre consecutivi 7 marzo 8 marzo 9 marzo questo è un grande segnale di 90 state molto attenti sto facendo contenere in gioco la spia che porta il 90 a Cagliari mi raccomando perché questo triplo 45 andrà a produrre qualcosa di grandioso poi abbiamo la cadenza 5 unita molto bella che annuncia sempre il 90 45 65 su Cagliari 66 segnalatore triangolo di cadenza 5 35 45 65 bari e Cagliari quindi attenzione a queste due ruote ok poi possiamo notare il 6 di Milano quindi cadenza 6 in terza posizione molto interessante anche qui ambo di cadenza 55 55 sapete benissimo che abbiamo il mio 90 segreto bari Milano un solo ambo secco nella modalità vincita venuta potete contattarmi sempre via whatsapp per averlo si paga alla vincita previsione gratuita questo 6 va anche in diagonale con Napoli quindi doppio 6 in diagonale molto bello è il 10 anche di Milano un altro bel segnalatore vedremo ancora tanti bei 90 estrazione scorsa avete visto il doppio 90 tra le ruote di Roma e Venezia ma arriveranno ancora situazioni del genere con sortite multiple notate su Bari Cagliari la ripetizione numerica il 45 di Bari va a Cagliari a Cagliari si ripete poi abbiamo avuto diverse ripetizioni 46 anche di Bari era già sortito mi sembra no era sortito a Cagliari ed è andato a Bari quindi come veramente queste due ruote sono veramente incredibili come si scambiano i numeri come arriva una grande ripetizione numerica come notate vanno a rotazione più o meno sempre gli stessi numeri e le ruote se li scambiano sempre quindi attenzione poi abbiamo ambo distanza 2 Palermo 12 14 il 20 che segnala ancora questo bel 90 figura 9 in terza sulla ruota di Roma 36 con l'ambo di distanza 1 72 73 il 10 anche segnalatore ma guardate anche Cagliari portando distanza 1 65 66 quindi attenzione la ruota di Cagliari per il 90 Bari Cagliari 90 anche quarta e quinta posizione lo possiamo accoppiare al 72 del metodo lotto la data quindi chi lo sa possiamo tentare un 72 90 Bari Cagliari e tutte segnatevele bene queste cose queste indicazioni che vi do poi ambo diametrale in decine unito 30 35 di Torino anche Torino porte 45 guardate Cagliari Torino sono ruote gemelle quindi somma 90 in diagonale 45 45 figura 9 45 36 a Torino poi abbiamo anche la cadenza 3 sulla nazionale 53 73 con l'ambo distanza 2 53 55 quindi anche in questo quadro estrazionale abbiamo bellissime bellissime situazioni quindi vedremo questa nuova settimana da martedì 12 marzo cosa ci porterà ma abbiamo dei 90 molto belli ho batto ancora sul 90 di Bari Cagliari perché secondo me è un 90 fortissimo mi raccomando al metodo lotto la data perché chi ha giocato l'ambo secco ha giocato anche l'ambetto e comunque ha preso un ambetto in quattro colpi di gioco anche giocando meno giocando due colpi perché il metodo avevo già presentato quindi attenzione perché è un metodo dove giochiamo veramente soltanto due numeri ed è un metodo che ci darà parecchie soddisfazioni è un metodo veramente incredibile chi fosse interessato anche ai miei metodi completi quindi ho il singolo metodo del pacchetto metodo in promozione e può contattarmi sempre via whatsapp 348 75 47 715 ho le mie previsioni in modalità vincita avvenuta quindi mi raccomando poi vediamo cosa possiamo dire ancora vediamo un po' allora allora vediamo un po' cosa c'è la figura 9 in prima a Firenze con questo 27 Firenze e Roma portano 27 72 figura 9 e sommati danno sempre figura 9 quindi molto bella questa situazione tra le ruote di Firenze e Roma poi vediamo ancora un po' cosa c'è vediamo cosa c'è ancora la distanza 1 guardate tra le ruote di Cagliari Torino ruote gemelle 66 65 35 36 e le due ruote che portano il 45 a somma 90 in diagonale quindi molto importanti anche queste due ruote ma io batto sulla ruota di Cagliari perché secondo me arriva secondo me arriva forte questo 90 sia Cagliari che Bari direi che questo è quanto per questo quadro estrazionale cadenza 5 su Milano 555 l'abbiamo vista come sapete i miei segnalatori quando li vado a segnalare poi i 90 vanno a cadere perché i segnalatori li mettiamo tutti insieme e andiamo ad ottenere il risultato mi raccomando sempre nei metodi e nelle previsioni costanza e fiducia perché sono le due armi per vincere il gioco dell'otto ormai lo sapete 34 35 guardate distanza 1 anche a Bari quindi qui c'è da divertirsi eh qui arriva un bel 90 preparatevi perché arriva un bel 90 sulle ruote di Bari e Cagliari per adesso un saluto a tutti Mister Sbancolò